Ciao a tutti, ieri ho parlato del Godox AD200 che ho appena acquistato per via di un lavoro che devo fare imminentemente e di cui insomma avrò bisogno. Lucio però mi ha mandato un messaggio, mi ha commentato il video dicendomi sì ma hai preso anche il Godox V1 che ti dovrebbe arrivare, ma che differenza c'è tra uno e l'altro? Effettivamente non è che come dire abbia molto approfondito le differenze tra uno e l'altro. Allora approfitto per fare un video parlando dei prodotti più interessanti di casa Godox e delle differenze sostanziali, molto sostanziali che ci sono tra uno e l'altro. Allora, piccola premessa che ho sempre fatto ma ripeto. Godox ai tempi era una casa che produceva flash di mediocre qualità, per non dire scarsa, che insomma faceva delle cose che funzionavano quando funzionavano, mettiamola così, e non erano assolutamente granché. Negli anni, come molti produttori orientali, si è evoluta e ha cominciato a trasformare prodotti interessanti, diciamo interessanti. In realtà ultimamente sta trasformando prodotti veramente molto molto interessanti. Ora, chiariamo una cosa, io sono uno di quelli che sostiene che se una cosa la paghi 100 e la stessa identica copia la paghi 30, un motivo sicuramente ci sarà. Quindi sì, effettivamente ci sono delle copie, dei flash per dire Canon e Nikon, che se compri come Canon e Nikon paghi una barcata di soldi e se compri invece Godox li paghi molto ma molto meno. La realtà qual è? Che probabilmente il controllo qualità dei prodotti Godox non è lo stesso dei prodotti Canon o Nikon o comunque di qualunque altro brand un pochino più affermato, diciamo, e che sviluppa interamente il prodotto, anche perché teniamo presente che i prodotti Godox come di molti altri produttori orientali non si basano sulla progettazione del prodotto, ma sul reverse engineering, cioè pegliano un flash o un qualunque altro appunto prodotto, lo smontano, lo spezzettano, vedono come è fatto e lo costruiscono identico. Ne fanno praticamente una copia. Questo costa molto meno ovviamente che sviluppare un prodotto da nuovo, poi con piccole differenze eccetera, però in questi casi succede che le copie sono spesso performanti come effettivamente gli originali. Bisogna sempre onestamente pregare, io non ho mai avuto esperienza, però nel momento in cui avete bisogno di un assistenza Godox, non so, probabilmente dovrete mandare in Cina il prodotto e quindi vi rimane via per diverso tempo, mentre per Canon, Nikon o altri prodotti si parla in genere di pochissime settimane se non giorni. Questo è un vantaggio non indifferente, ovviamente. C'è anche da dire un'altra cosa, che nel momento in cui pagate un flash, magari un terzo, va da sé che nel momento in cui si rompe, pur essendo in garanzia, lo buttate, ne prendete un altro e lo pagate, pagate comunque meno rispetto a un flash appunto originale. Premesso questo, Godox sta facendo dei prodotti molto molto interessanti, ma soprattutto realizzati molto molto meglio rispetto a quando ha cominciato a introdursi sul mercato, se non ricordo male, parliamo più o meno di decine di anni fa. Ora, se andate sul catalogo Godox, sul sito, vedete che ci sono una valangata di prodotti, flash Cobra, flash Mono Torcia, ce ne sono veramente tantissimi. Escludendo i soliti flash che vengono a Cobra, a slitta, quindi per Canon e Nikon e Fuji, Olympus, eccetera, che sono flash normali, ci sono secondo me tre prodotti, tre, che invece sono degli outsider, sono delle cose che vanno tenute d'occhio e sono molto molto interessanti per le caratteristiche. Allora, il primo, che è uscito imminente da poco, praticamente, è il Godox V1. Il secondo è il Godox Wistro AD200, che è quello appunto che ho acquistato e che c'è sul mercato già da qualche annetto, e il Wistro AD360 versione 2, questo è quello che c'è adesso sul mercato. Sono tre flash. Che differenza c'è tra questi tre flash? Oh, allora, il Wistro AD360 2 e il Godox V1 sono dei flash a slitta, cioè voi li montate direttamente sopra la macchina fotografica. Ovviamente li potete, tutti questi flash sono controllabili tramite il sistema XMHz, se non mi ricordo come si chiama, ma il sistema wireless di Godox, che è molto stabile e molto efficace, quindi potrete controllare tramite il trigger, due trigger ci sono l'X1, l'X1 Pro e da poco è uscito, l'X Pro, scusate, e da poco è uscito anche l'X2, che non è ancora ancora in commercio, sono dei trigger molto stabili, fatti molto molto bene, che controllano appunto questi flash. Stavo dicendo, sono questi due flash che vanno montati sul corpo macchina, a meno che non li utilizzate effettivamente esternamente, ma differiscono sostanzialmente per una cosa. Il Godox V1 è un flash con una testa, con all'interno una lampada, e all'esterno una lente tonda, non rettangolare come quelli dei flash standard, quindi anche la luce è distribuita in maniera diversa, ha la possibilità di agganciare frontalmente uno o più accessori, che possono essere un diffusore, un diffusore a parabola, a semisfera, quelli con le alette sostanzialmente, filtri colorati, quindi una serie di accessori che vengono montati standard, che ci sono, che produce Godox, e che vende Godox, che vanno attaccati tramite calamita, una cosa molto molto semplice, e lo rendono molto molto versatile. Cosa succede? Che il Godox V1 però ha delle limitazioni, è compatto, è piccolino, e sappiamo che un flash piccolino vuol dire un flash comunque dalla potenza limitata. Mi sono segnato tutto, altrimenti non mi ricordo. Il Godox V1 ha un numero guida 28, quindi non è una roba eccessiva, ed è un 76 Watt, ok? Quindi tutto sommato una potenza più che adeguata per degli eventi, come dire, delle situazioni in cui vi serve un flash su camera o fuori camera, con la possibilità di appunto agganciare diversi accessori per modificarne la luce. Ma esiste una versione che si chiama AD360, versione 2 attualmente, che è sì un flash cobra, molto più grande, sostanzialmente più grande, sempre controllabile in wireless, che ha la possibilità di agganciare anche un power pack esterno, e che non ha la lente frontale fissa, ma ha direttamente la lampadina, la lampada esposta. Se sapete come è fatto un flash monotorcia, sapete che è un cilindro con una lampada fuori, che normalmente diventa stra-ultra incandescente, e che se toccate dentro malauguratamente rompete, e costa un sacco di soldi, ed ecco che Godox ha fatto questa versione, si chiama appunto Wistro 362, con questa lampada esposta, e siete obbligati a montarci sopra una parabola, piuttosto che una serie di accessori molto più grandi, che rendono appunto questa, volendo anche un softbox piccolino, che rendono questo flash un piccolo flash da studio, montato direttamente sulla macchina fotografica. Ovviamente la potenza in questo caso è diversa, perché parliamo di un numero di guida 80, cioè veramente potentissimo, e ovviamente un 360 watt. Il flash è molto grande, è molto ingombrante, e nel momento in cui, come succede, durante gli eventi, durante i matrimoni, un pochino concitati, andate in giro con la vostra macchina fotografica, sapete benissimo che il flash è esposto. Quindi toccate dentro da qualche parte, un Godox V1 probabilmente non risente di niente, un Whistor 360 con la lampada esposta, probabilmente è a maggior rischio di danno, e danno non indifferente, perché comunque è una lampada che costa, mi sembra, sui 40 o 50 euro, a fronte comunque di una spesa non indifferente, perché questo Whistor costa veramente, costa abbastanza. Quindi la sostanziale differenza tra il V1 e il 360 2 è appunto quella del vattaggio e, numero guida ovviamente, delle dimensioni e anche del tipo di aggancio del modificatore di luce, dove nel V1 è fisso e si può modificare con dei piccoli accessori, mentre nel Whistor 360 la lampada è completamente esposta. Quindi pensate anche solo di, come dire, puntare il flash verso l'alto, cosa che si fa spesso nel momento in cui si vuole illuminare una stanza. Con il Whistor 360 avete una quantità di luce veramente esagerata. Per di più avete la lampada che distribuisce la luce veramente a 360 gradi, quindi non si ha soltanto la lampada che è coperta dalla lente come nei flash e dalla plastica, come succede nei flash Cobra, e quindi spara in alto e dovete rimodificare la luce esteriormente con un ulteriore modificatore a cupola. Parliamo veramente di quasi un flash monotorce direttamente montato sulla macchina fotografica. Ok? Queste sono le sostanziali differenze tra uno e l'altro. Dipende effettivamente da cosa avete bisogno. Se non avete bisogno di tantissima potenza, va bene V1. Se invece avete bisogno di tanta potenza e volete veramente tanto modificare la luce che sta intorno a voi, allora effettivamente il 362 è quello che fa per voi. Ma tra uno e l'altro si inserisce anche la D200. La D200 non è un flash che va montato su fotocamera. L'esterno è un mattone, perché è proprio una forma di mattone, che va controllato necessariamente con il trigger. È la via di mezzo che non si monta su camera tra il V1 e il 360. Cosa significa? Che ha il corpo che è l'elettronica, sostanzialmente la batteria, la gestione della flashata. E invece la testa è modificabile, cioè puoi agganciare una testa che è quella di un flash standard quadrato, quindi puoi montare appunto quella testa con la lampada all'interno e la lente esterna. Puoi montare una testa che è identica alla testa del V1, del Godox V1, quindi una testa tonda la puoi montare attaccando gli stessi accessori del V1, oppure montare una testa con la lampada esposta, quindi la stessa cosa che si fa con il 360, con il WISO 362. È molto versatile. Lo svantaggio è che non puoi montarlo sulla fotocamera, o meglio, c'è la possibilità con un accessorio di montare la testa e utilizzare la parte del corpo tramite cavo e te la puoi tenere in tasca, te la puoi tenere appoggiare sul tavolo. Quindi c'è un modo anche per poterlo montare su camera, ma è un pochino effettivamente macchinoso. Nel momento in cui abbiamo la necessità di modificare la luce e abbiamo un assistente o un amico o qualcuno che ci dà una mano con un'asta o tiene anche solo in mano il flash per puntarla contro il soggetto o qualunque cosa che vogliamo illuminare, oppure lo possiamo poggiare sul tavolo per poter illuminare tutto l'ambiente, ecco che l'AD200 diventa un'ottima alternativa ai flash tradizionali, perché comunque parliamo di un numero guida, perché mi sono segnato tutto, numero guida 60 nel momento in cui utilizziamo la lampada esposta, 52 invece in cui utilizziamo la testa, quella quadrata, scusate, rettangolare con la lente, quella di un flash standard, ed è un 200 Watt, quindi meno potente sicuramente di un 360, ma molto molto più potente di un V1, quindi il V1 che non ho ancora provato, comunque è abbastanza sicuramente potente, ma non quanto un 200 Watt con un numero guida 60-52 a seconda della testa che utilizzate, quindi le differenze tra i tre flash effettivamente ci sono, quale comprare? Dipende da quello che volete fare, che volete fare, per esempio a me il 360-2 onestamente non mi ha mai attirato, perché è comunque molto grosso, montarlo su anche una fotocamera che poteva essere una Canon 1DX, comunque risultava molto grosso e tutto risultava anche molto 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 pesante, figuriamoci montarlo su una X-T3 che è comunque una fotocamera molto molto leggera, molto compatta e ti sbilancia, ti sbilancia abbastanza e oltre a essere anche abbastanza ridicolo, quindi la mia scelta per eventualmente, per eventuali lavori comunque durante eventi, matrimoni, eccetera, è meglio il V1 con una serie di accessori molto interessanti che ho già acquistato, che farò vedere quando spero mi arriverà presto il V1 e l'AD200, l'AD200 secondo me è un'alternativa più potente staccata dal corpo macchina con una maggiore versatilità, penso di utilizzare molto il flash con ovviamente la lampadina esterna e la cupola, la semisfera, perché quella va a illuminare veramente completamente l'ambiente in maniera molto molto più morbida e meno direzionale rispetto alla testa, quella di un flash standard, quella rettangolare. La scelta è difficile comunque se uno vuole comprare un flash, teniamo presente che se volete acquistare anche solo un flash di quelli standard, Godox ne fa diversi con compatibilità tra i standard sostanzialmente, quindi non è che sia obbligati per forza ad acquistare questi qui. Questi sono i prodotti che ritengo più interessanti forse di Godox, ma avendo provato anche gli altri flash, devo dire che gli altri flash sono molto molto belli. Forse il più bello tra i normali è l'860 con batteria a litio, una quantità di flash veramente incredibile, di flashate incredibili si possono fare con quella batteria. L'unica cosa, ahimè, non è recentissimo, quindi il caricabatteria, sapete che per me è una fisima, il caricabatteria è un 220, non è un USB, quindi si è costretto ad attaccarsi alla corrente per caricarlo, nel momento in cui c'è effettivamente bisogno appunto della ricarica. Dunque, ultime precisazioni del Godox V1, ci sono le versioni Canon Nikon Fuji Olympus Pentax, la D200 è un TTL compatibile con il trigger, ed è il trigger che effettivamente fa il TTL sulla flashata, quindi è compatibile sostanzialmente con tutti i trigger che ci sono, gli stessi appunto del V1, mentre la D360, che è meno recente forse di tutti gli altri, e secondo me è anche quello che forse ha venduto un pochino di meno, è compatibile in TTL soltanto con Canon e Nikon, esistono solo queste due versioni. E secondo me non hanno spinto neanche più di tanto, perché è un ottimo flash per l'amor del cielo, ma l'ingombranza e l'usabilità sono sicuramente diverse rispetto a quelle di un flash più piccolo e meno danneggiabile, o di un flash esterno e molto più versatile. Quindi spero di aver risposto ad eventuali domande sulla differenza tra uno e l'altro, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, attivare la campanella, dare un'occhiata al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, lasciarmi un like, lasciarmi un commento, per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!